Mondo Scuola, un decreto del Ministro dell'Istruzione assegna 370 posti all'Unimol per la formazione di altrettanti insegnanti di sostegno. Il percorso di formazione mediante TFA, tirocinio formativo attivo, è finalizzato appunto al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Finalità del corso risiede nella formazione di professionalità con competenze specifiche legate al trattamento efficace della disabilità. Diversi gli aspetti da tenere in considerazione, da quelli sociali a quelli medici a quelli più propriamente legati alla formazione. Possibile iscriversi alla prova selettiva fino alle 15 di domani, venerdì 19 maggio. Requisito d'accesso il possesso di diploma magistrale conseguito fino al 2001, laurea in scienze della formazione primaria o una qualsiasi altra laurea con abilitazione. La tassa per sostenere la prova ammonta a 150 euro, il corso universitario ha invece un costo di 2.500 euro. Il bando con i relativi allegati e la normativa di riferimento sono disponibili anche sulle pagine web della Segreteria Studenti del portale Unimol alla sezione Formazione Insegnanti.